Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Oltre i 10 milioni di euro già stanziati per la sola provincia di Imperia e altri 140 milioni da dividere per tutta la Liguria. Sono le cifre relative a interventi per danni di maltempo e mareggiate che hanno colpito il territorio. Il piano di azione è stato illustrato stamani a Imperia dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Vediamo. Assessore Giampedrone, notizie importanti perché si parla di 10 milioni di euro per tutta la provincia, quasi 4 soltanto per Imperia dove si prevede anche il rifacimento del molo. Insomma, i danni per le mareggiate per il maltempo arrivano già nei cassetti degli enti che ne hanno fatto richiesta in tempi rapidi. Questa è la prima notizia importante di questa mattina. I 10 milioni che abbiamo messo in campo su nemmeno il primo anno dall'emergenza di ottobre e novembre scorso sono già tutti stanziati e gli interventi sono tutti cantierati entro settembre. Devo dire che è un risultato straordinario di protezione civile. Non ci siamo fermati qua e questa mattina abbiamo iniziato a ragionare con le amministrazioni comunali e con la provincia anche degli interventi 2020 che vedranno stanziamenti per circa 140 milioni che non sono solo per la provincia di Imperia ma sono per tutti i comuni che hanno patito danni nella più grande mareggiata purtroppo della storia della Liguria, quella di ottobre e novembre 2018. Ecco si comincia però anche a ragionare da un altro punto di vista non soltanto sistemare i danni per carità aspetto importante ma anche cercare di fare qualcosa per prevenire. Questa è la vera novità inserita nell'ordinanza di protezione civile insieme alle risorse che sono state tante e ben spese. Devo dire che da un lato interveniamo in qualità di protezione civile pura cioè ripristinando ciò che è stato danneggiato ma finalmente per la prima volta si apre anche agli interventi di resilienza che vuol dire la capacità di un territorio di difendersi e di reagire come dire di reggere alle intemperie di reggere le situazioni di criticità di difesa del suolo. Credo che sia veramente qualcosa di importante perché la nostra regione e anche questo territorio soprattutto ha patito dal 2016 ad oggi due delle più grandi emergenze di tutta la Liguria negli ultimi vent'anni ed è evidente che non ragionare solo di ripristinare quello che già c'era ma farlo anche nelle condizioni migliori tecnicamente per la difesa delle nostre coste e dei nostri cittadini credo che sia veramente un qualche cosa che possa guardare con fiducia al futuro. Soddisfazione per l'intervento di ripristino del molo lungo di Imperia Oneglia è stata espressa dall'assessore regionale all'urbanistica Marco Scaiola che ha sottolineato il non facile iter compiuto. Scaiola ha anche evidenziato come la nuova legge regionale per la rigenerazione urbana e entri nel vivo. Da ottobre infatti i comuni potranno fare domanda per intervenire in zone di particolare interesse in servizio. L'assessore Marco Scaiola, un punto della situazione fatto per danni, per maneggiate, per guardare anche al futuro ma un aspetto anche importante è quello di curare il territorio, c'è una legge, quella della rigenerazione urbana che guarda anche a questo aspetto. Ma un incontro importante, ringrazio anche il collega Gian Pedrone dalla disponibilità, avevamo pensato alcuni mesi fa di organizzare questo incontro qua sul territorio con i comuni, con i sindaci per fare il punto su quelli che sono i fondi della protezione civile per i tanti interventi che devono essere fatti proprio a causa delle recenti alluvioni che avevano colpito anche tanto qui l'imperiese. Innanzitutto una notizia importante, anche la conferma di questi fondi 4 milioni e 7 per la città d'Imperia di cui una parte importante andranno proprio per il molo lungo di Oneglia, che sapete bene è un porto al porto di Oneglia di interesse regionale e quindi abbiamo dovuto fare un grande lavoro insieme al comune per fare in modo che questi fondi potessero essere garantiti e confermati. 10 milioni di euro per tutto il territorio della provincia inizialmente ma ne arriveranno altri. Ringraziamo tutti i comuni imperiesi interessati da questi danni, da questi fondi perché hanno fatto sino ad oggi un ottimo lavoro perché la burocrazia è una burocrazia non semplice e quindi è facile poter commettere errori o rimanere indietro su qualche punto ma è stato fatto da tutti i comuni 34 comuni interessati compresa anche la provincia d'Imperia un ottimo lavoro e questo ci permette di lavorare bene. Allo stesso tempo oggi è stata l'occasione per parlare di quelli che saranno i fondi, iniziamo con 300 mila euro per i progetti sulla legge della rigenerazione urbana, una legge che abbiamo approvato nel dicembre scorso in Consiglio regionale insieme a Lazio e all'Emilia Romagna. Siamo l'unica regione che ha una legge così importante che punta proprio sulla rigenerazione e sugli interventi di riqualificazione urbana. Da ottobre i comuni potranno fare domanda per intervenire su zone che vogliono essere messe in sicurezza o riqualificate per ragioni turistiche, economiche e commerciali. Quindi una grandissima iniziativa e opportunità che noi costruiamo insieme ai comuni. Iniziamo con 300 mila euro ma cammin facendo siamo pronti a finanziare ulteriori interventi in base anche a quelle che saranno le domande che riceveremo. Quindi una giornata importante che proseguiamo poi anche domani per Monesi perché siamo qui anche per vedere lo stato dell'arte dei lavori della strada che aprirà al più presto. In occasione della missione imperiese da parte della Giunta regionale, questa mattina l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino ha fatto visita agli uffici provinciali per l'occupazione. L'assessore ha voluto verificare la situazione in concomitanza con le scadenze previste dalle pratiche relative al reddito di cittadinanza. L'assessore Berrino in questa missione di Regione Liguria in provincia di Imperia ha anche una visita qui al centro per l'impiego, tra l'altro in un periodo fervente per quello che riguarda il reddito di cittadinanza. Stamattina secondo gli articoli che erano usciti sulla stampa nazionale sarebbe stato il giorno in cui secondo il Ministro i navigator avrebbero dovuto accogliere circa le prime 8 mila persone. Qua in provincia di Imperia i percettori del reddito di cittadinanza sono più o meno 4 mila ma siccome non ci sono ancora i navigator perché arriveranno materialmente, personalmente dentro i centri per l'impiego dal prossimo 9 di settembre, questa mattina è proseguita la normale vita all'interno dei centri per l'impiego. Ricordo che noi siamo partiti per tempo chiamando già per i colloqui individuali i percettori del reddito di cittadinanza però non è ancora partita quella fase che invece era già stata detta e che tocca e che toccherà appunto ai navigator far decollare definitivamente. Noi poi ci impegneremo con i nostri operatori dei centri per l'impiego a firmare i singoli patti per il lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza. Sarà un lavoro diciamo abbastanza lungo e complicato. Ricordo anche che poi i percettori del reddito di cittadinanza dovranno impegnarsi ad offrire 8 ore di lavoro gratuito per i singoli comuni di residenza. Proseguono senza sosta a Sanremo i lavori in zona sud-est per il posizionamento dei moduli destinati ad ospitare le aule della scuola Pascoli, attualmente inagibile. Il costo dell'operazione è di circa 650 mila euro e se i prefabbricati dovessero rimanere per un altro anno il comune pagherà 12 mila euro di affitto al mese. È stato il sindaco Alberto Biancheri a spiegarlo durante l'ultima seduta di Consiglio Comunale. Sono stati posizionati prendendo l'aspetto delle aule prefabbricate, i moduli che andranno ad accogliere per l'anno scolastico che sta per iniziare gli studenti delle scuole Medie Pascoli. Si tratta delle costruzioni modulari elaborate per ospitare le aule. Le operazioni di montaggio affidati alla società al GECO proseguono celermente, poiché fra due settimane inizierà la scuola e tutto deve essere pronto. Poi al termine dell'anno scolastico il noleggio dei prefabbricati già pagati dal comune circa 650 mila euro in totale delle strutture costerà all'amministrazione comunale 12 mila euro al mese di affitto. È stato il sindaco Alberto Biancheri nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale ad annunciarlo, dicendo anche infine che sono state valutate tutte le possibili soluzioni. Credetemi, tutte le possibilità, tutte le soluzioni B, C, D, E le abbiamo, sicuramente non so, ci sarà qualcun altro che siamo stati che non abbiamo valutato, non lo so, ma tutto quello che noi è stato in possesso, delle vostre richieste, di quei venti giorni che abbiamo girato la città le abbiamo valutate tutte. Però credo che questo Consiglio oggi debba fare un ragionamento che è quello emergenziale, che mi dite, che poi vi risponderò ai vari punti che mi ha sottolineato il Consiglio dei Lombardi, che abbiamo anche chiarito in parte anche con i genitori dei ragazzi, in una seduta pubblica proprio qua in Comune, ma abbiamo valutato tutte le possibilità anche di questi prefabricati dove poterli inserire. Prima nel parco di Villormone, il campetto Grammatica, poi abbiamo spostato, c'è chi proponeva altre zone, però anche qua avevamo delle richieste, delle richieste da parte dei genitori, delle richieste da parte dei docenti. Avevamo, forse voglio dire, l'arroganza è stata forse quella di assecondare le loro richieste. Ci hanno chiesto l'immobile di via Marsaglia, abbiamo veramente fatto di tutto in 20, in 30 giorni, sicuramente anche in un momento di confusione, non so chi diceva questo, sicuramente. Però abbiamo cercato di raccogliere quelle che erano le proposte di tutti per far sì che l'Istituto Pascoli perdesse il meno possibile a livello numerico di alunni, perché la questione logistica è fondamentale per quella scuola, è fondamentale. E su questo, meglio di quel posto, capisco che può creare dei disagi in parte della passeggiata, che comunque ci sarà sempre una continuità tramite la ciclabile e tramite un metro e mezzo di strada a fianco ai prefabricati, ci sarà sempre una percorabilità. I costi di affitto, qualora le strutture si volessero mantenere un altro anno, si aggirano intorno a 12 mila euro al mese, perché qua ci sono i costi di trasporto, di montaggio e ci sono già i costi anche di smontaggio, sono già stati pagati. L'impatto visivo delle strutture modulari è alquanto austero, si può notare che sul lato della balaustra lo spazio per passare a piedi si è ridimensionato drasticamente, mentre dalla parte degli ingressi delle aule un lungo corridoio attraversa tutta la passeggiata del sud-est per circa 150 metri. Il lungomare, a pochi metri dal parco giochi e dalla pista ciclabile, quindi ha cambiato aspetto e la parte sopra sulla ciclabile è stata recintata. La disposizione di posizionare i prefabricati della Pascoli è stata disapprovata dalla minoranza, che avrebbe scelto un'altra sistemazione. Si tratta comunque per il comune matuziano di scelte dettate dall'emergenza, vista la prossima apertura delle scuole. Ha riscosso successo la tradizionale passeggiata enogastronomica per i borghi della Valprino. Nonostante il tempo incerto, numerose persone non hanno voluto rinunciare al cammino tra natura e piatti tipici. Vediamo. In Valprino si è svolta la tradizionale passeggiata enogastronomica dell'Alta Valprino, la scoperta dei paesaggi e dei sapori del territorio. L'evento ha preso il via da Molini di Prela per proseguire a Vallori, a Tavole e Villa Talla. Una domenica tra mulattie e reboschi per degustare i prodotti del territorio, partendo da un aperitivo con focaccia e pizza per proseguire con pasta al pesto e al sugo, capra e fagioli, formaggio con miele e dolci. Una festa impegnativa e appassionante che coinvolge tutti i borghi principali dell'antica contea di Pietralata, la cui riuscita dipende sempre dalla grande collaborazione con il comune dei tanti volontari presenti sul territorio. Ancora una volta l'Alta Valprino si è presentata al pubblico con il suo vestito migliore, fra natura e prodotti locali, riscuotendo l'apprestamento di tanti visitatori. Se purtroppo l'ultima tappa abbiamo avuto l'inconveniente del tempo orale, pazienza, comunque vedo che la gente sono tutti contenti, mi è piaciuto, sono qua, siamo anche in mezzo a riparo. Mi auguro che siano rimasti soddisfatti di tutto, ma quanto ho sentito dire, tanti mi hanno detto che sono trovati molto bene. Le diamo l'appuntamento alla prossima edizione, un altro anno, e anche lì vedremo se ripeterla a settembre o a farla alla fine di maggio. Vediamo un attimo poi. Successo a Pornassio per la tradizionale festa dell'uva che ha caratterizzato il fine settimana in frazione villa nella splendida cornice del castello medievale. La formula voluta quest'anno dagli addetti della Proloco ha visto anche uno spazio dedicato ai giovani, come ci ha spiegato Martina Gasloni dell'organizzazione. Con Martina della Proloco di Pornassio cerchiamo di fare un po' di bilancio. Allora, festa dell'uva conclusa veramente bene. Possiamo dire ottima l'annata per il raccolto di uve da Ormeasco, ottima la festa. Ottima la festa, sì. Venerdì sera, un grande veramente esploi, tanta partecipazione, tante persone che sono venute a questa prima edizione della Wine Night e non solo, anche alla degustazione, non dimenticare dei vini tipici dell'Alta Valle Rocia che ha raccolto veramente un grande pubblico perché la varietà e le tipologie di vini che le aziende della nostra valle ci hanno offerto era tantissima. Tante persone che sono venute a darci un contributo, sapendo innanzitutto che la serata di venerdì avremmo devoluto ricavato alla Croce Bianca di Pornassio la nostra pubblica assistenza. Sabato ovviamente aspettiamo tanta gente, proprio perché questa festa la vogliamo sempre di più far sentire a tutta la valle e non solo, perché tante persone da fuori sono ritornate perché diciamo che la tradizione si sente. E quindi insomma la tipicità, la tradizione, la bontà dell'Ormeasco e questo messaggio importante sul vino e sulla valorizzazione dei prodotti tipici si sono sposati benissimo con anche quest'aria di gioventù, di innovazione e di un drink addirittura a base di Ormeasco. Sì, tanti sono i giovani che quest'anno si sono messi in gioco, hanno portato avanti la tradizione, diciamo che c'è stato un po' un passaggio di testimone e non solo, però la collaborazione con i veterani è sempre molto presente perché ovviamente senza di loro non potremmo sapere i segreti delle ricette, dei piatti che vengono cucinati perché ribadisco il concetto che tutto viene fatto qua, viene fatto dai nostri volontari, è importantissima questa cosa. E come hai detto bene c'è nato il cocktail, questo cocktail speciale che è stato inventato sempre da alcuni ragazzi a base di Chaketra, quindi un vino tipico della nostra zona, quindi per valorizzare ulteriormente in modo simpatico e apprezzato più dai giovani che magari un bicchiere di vino semplicemente e quindi per lanciare sempre il messaggio che il vino ormeasco c'è e bisogna portarlo avanti. Si è rinnovata sabato nella Valle dei Maestri la tradizionale visita alla chiesetta di San Terim a cavallo tra Liguria e Piemonte. Tanti gli appassionati che anche quest'anno hanno deciso di raggiungere le pendici del Marguareis. Vediamo. Nonostante il tempo non ci abbia aiutati completamente, la festa di San Terim anche quest'anno è stata fatta. La messa è stata detta in parte dentro, in parte fuori. C'era una bella partecipazione grazie a tanti che sono venuti, soprattutto da Imperia, dalla Liguria e siamo riusciti comunque a ricordare degnamente chi aveva voluto costruire questa chiesetta e anche tutti i volontari che nel tempo hanno collaborato per ricostruirla, le persone che ci hanno creduto, che hanno partecipato gli anni precedenti, quelli che non c'erano più. Si è concluso con una bella polenta tutti insieme e quindi possiamo dire che anche quest'anno San Terim in qualche modo è stato fatto, ci ha aiutato e diamo appuntamento a tutti all'anno prossimo. Sì, anche quest'anno abbiamo potuto celebrare la festa di San Terim, è stato un piacere essere qui. Coltivo sempre il desiderio che prima o poi possa arrivare a celebrare a San Terim il Papa e anche una visita del Presidente della Repubblica in Terra Brigasca. Ogni anno io mando loro le foto e scrivo e speriamo che prima o poi ci rispondano. Sulle alture di Sanremo si è svolta la tradizionale festa dedicata alla Madonna delle Acque Nere, un'iniziativa organizzata da Enalcaccia, sezione San Pietro e dalla parrocchia di San Pietro con la collaborazione dell'Associazione Volontari San Bartolomeo di Sanremo della Protezione Civile. La funzione religiosa è stata ufficiata da Don Gerard della parrocchia di San Pietro alla presenza di numerosi appassionati della montagna e della caccia e di alcune autorità locali. Vittoria dell'Imperia Calcio sul Pietraligure al secondo turno di Coppa Italia di eccellenza. Una partita sofferta e giocata fino all'ultimo, chiusa con un 3-2. Vediamo. Il match valido per il secondo turno di Coppa Italia di eccellenza, disputatosi domenica sera tra le mura di casa del Nino Ciccione, ha visto l'Imperia prevalere sul Pietraligure per tre reti a due. Una partita giocata fino all'ultimo e a tratti anche sofferta, che ha visto l'Imperia in vantaggio dopo appena 12 minuti di gioco con un gol di Edoardo Capra su calcio di rigore. Alla prima mezz'ora è arrivato poi il gol del raddoppio, a firma di Giuseppe Giglio, ma al 44esimo ci ha pensato Rovere del Pietraligure ad accorciare le distanze. Al rientro in campo l'Imperia di nuovo avanti con una rete al 76esimo di Samuele Sassari. Un rigore fallito sulla traversa di Burdisso lascia pensare che l'incontro sia ormai chiuso, ma è ancora Burdisso invece a battere il portiere dell'Imperia trucco al novantesimo di gioco, segnando il gol che chiude l'incontro sul punteggio finale di 3 a 2. Prossima sfida per l'Imperia domenica ad Alassio. E adesso è il momento di rivire i venti, poi la situazione dei cantieri sull'autostrada dei Fiori. Prossima sfida per l'Imperia domenica ad Alassio. Prossima sfida per l'Imperia domenica ad Alassio. Prossima sfida per l'Imperia domenica ad Alassio. Grazie a tutti. Siamo giunti in chiusura. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito imperiatv.it e sulle nostre pagine Facebook e Twitter. Buona serata. Grazie a tutti. I 5 Stelle voteranno domani sulla piattaforma Russo dalle 9 alle 18 per dire se siano d'accordo oppure no all'accordo di governo con il PD. Nel frattempo sia PD che Movimento 5 Stelle studiano strategie al proprio interno prima di passare al confronto tra di loro. C'è area di stretta finale per il nuovo governo. Oggi riunioni decisive e domani l'incognita del voto sulla piattaforma. Comunque andrà, sarà orgoglioso del lavoro svolto, dice nel frattempo Luigi Di Maio. Stato di emergenza in Florida, Georgia, Carolina del nord e del sud a causa dell'uragano Dorian ha salito a categoria 5 con venti fino a 320 km orari che nelle scorse ore si è battuto sulle Bahamas causando inondazioni e danni alle case. Secondo i media americani, Dorian si sta muovendo lentamente verso ovest e potrebbe colpire le aree della costa orientale degli Stati Uniti. Intanto si registra già la prima vittima. La nave Eleonora della ONG tedesca Mission Lifeline con oltre 100 migranti a bordo ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali ed è arrivata a Pozzallo. Decisione presa per le cattive condizioni meteo. Nei giorni scorsi il governo aveva firmato il divieto di ingresso. La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro della nave. I migranti potranno comunque sbarcare. Legge e confini vanno rispettati. Farò di tutto per difendere l'Italia, ribedisce Matteo Salvini. Mauro Riccardi verso il Paris Saint Germain. L'attaccante argentino e il suo entourage si sarebbero convinti a lasciare l'Inter. Il club del Razzurro è disposto a far partire il giocatore in prestito e la moglie ed agente del giocatore Vandanara e pronta nelle prossime ore a partire alla volta di Parigi per chiudere l'operazione. E per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adncronos.com Arrivederci ancora una volta dalla redazione web.